Si parla di infrastrutture intelligenti nell'ambito di questo progetto, quale città? Presutti, le infrastrutture sono fondamentali per il nostro territorio? Le infrastrutture lo sono sempre state. Diciamo che, ragionando delle città e del futuro delle città, le infrastrutture servono anche a una nuova riflessione su questo tema dello spazio, che è un tema che è posto in discussione della contemporaneità, perché da un lato la tecnologia ha quasi eliminato la categoria spaziale, proprio per la possibilità che si ha di collegare tutto. D'altra parte, la pandemia ci ha dimostrato che dobbiamo tornare a riconsiderare lo spazio e i tempi di vita e molti aspetti che proprio chiamano in caso questa categoria che sembrava sparita. Allora, questo è un momento davvero prezioso, sia dal punto di vista di ciò che ci insegna questo momento, sia dal punto di vista delle risorse, ad esempio quelle del PNRR che ci sono, per interrogarci su come utilizzare l'innovazione tecnologica per creare infrastrutture che ci riconcilino con questa dimensione e rendano migliore la vita per i cittadini. Avremo a disposizione, abbiamo a disposizione una quantità ingente di risorse, bisogna assolutamente investire nel migliore dei modi possibili, investirle in una prospettiva di sviluppo, uno sviluppo che sia economico, che sia basato sull'inclusione sociale, che sia rispettoso dell'ambiente. Da qui l'idea di dibattere, e lo faremo lunedì con ospiti estremamente autorevoli di grande esperienza, per verificare quali siano le migliori scelte possibili di applicazione delle tecnologie alle infrastrutture della città. La città è motore di sviluppo. Per esercitare bene questo ruolo è necessario che sia competitiva, e per essere competitiva deve essere intelligente. L'intelligenza di una città si misura non solo dal grado delle tecnologie utilizzate, ma dalla condivisione con i cittadini del progetto di sviluppo, dalla capacità di utilizzare le nuove tecnologie e di orientarle verso quelle che saranno le leve strategiche della competizione che ci aspetta già domani.